Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Marco Gargini. In A11 un chilometro di coda tra Sesto Fiorentino e Peretola verso Firenze e code a tratti tra la barriera di Firenze Ovest e Pistoia in direzione Pisa. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori alla linea 2 della tramvia, fino a martedì 30, restringimenti di carreggiata in Viale Guidoni da Viale degli Astronauti all'intersezione con Viale 11 Agosto. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!